No che scaramanzia, ho paura del Milan, il Milan è trappola una squadra forte in questo momento. L'ha detto anche la squadra 2 a 0. Ah sì? No, no, ho avuto 3 a 0 uno scorso, 2 a 0. Boh, non mi ricordo. Senta, abbiamo sentito Garrone sempre decisissimo sulla questione Cassano, lei sarebbe sempre pronto a prenderlo? No, no, mi avete fatto una domanda pronto a prenderlo? No, assolutamente, mi hanno detto la prenderebbe Cassano, sì lo prenderei Cassano, però in questo momento non saprei dove metterlo. Un domani se non c'è il pastore, magari.